8 giugno 2019, ero qui a fare una passeggiata al Cilento Outlet Village e stavo aspettando una persona che ha scritto un libro meraviglioso che si intitola Nonostante. Purtroppo signori, ad aspettare questa persona sono solo, non è venuto nessuno, non ci credete? E guardate un pochino qui! Chi non ci stiamo aspettando quest'oggi?